... Ricorso in appello della Procura contro la sentenza di un luogo di non luogo a procedere per tutti gli imputati del processo suo smog, tra le persone prosciolte, Fassino, Pellino e Chiamparini. La Regione Piemonte ha presentato un nuovo piano di edilizia sanitaria, 4 miliardi e mezzo di euro per la realizzazione di 11 nuovi ospedali, 91 case di comunità, 30 ospedali di comunità, endometriosi, una malattia ancora considerata invisibile che però colpisce una donna su 10 e crea molti disagi, in Piemonte esiste un centro di riferimento regionale. Dopo la vittoria sulla Lazio, domani la Juve in campo per la sfida di Champions League contro i tedeschi dello Stoccar, la terza sconfitta consecutiva per il Toro che Cagliari perde per 3-2. Bentornati in nuove edizioni di TG Piemonte, ricorso in appello della Procura di Torino contro la sentenza con cui lo scorso 4 luglio, in sede di udienza predibattimentale, il Tribunale di Torino ha dichiarato il non luogo a procedere per tutti gli imputati del processo sullo smog. Il giudice aveva quindi respinto la richiesta di prosecuzione del giudizio avanzata dai pubblici ministeri e dai difensori delle parti civili. Tra le sette persone interessate ci sono gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino, l'ex governatore della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte d'Appello, come prevede la procedura, disporrà l'avvio del dibattimento in aula. Durante un posto di controllo per un'attività antidroga, la Guardia di Finanza di Novi Ligure, siamo nell'Alessandrino, ha scoperto nascosti nella portiera di un'auto con a bordo due persone circa 50 grammi di hashish. Le perquisizioni personali hanno portato inoltre al ritrovamento di quattro banconote da 20 euro risultate false. Nell'abitazione di uno dei due uomini sono stati sequestrati ulteriori 250 grammi di hashish e 5,5 di cocaina, oltre a due bilancini di precisione. L'uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, una denuncia invece per l'amico per violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e per possesso di banconote false. A Novara con la cronaca ancora grave incidente sul lavoro a Briga appunto nel Novarese dove un operaio di 24 anni è caduto da un'altezza di 7 metri mentre lavorava all'interno di una rubinetteria per conto di un'azienda di manutenzione. Il giovane trasportato prima all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero e poi in elicottero al Maggiore di Novara non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi resta riservata ma le condizioni dell'operaio sarebbero migliorate dopo le prime cure. Voltiamo completamente pagina. La Regione Piemonte ha presentato un nuovo piano di edilizia sanitaria che prevede l'utilizzo di 4,5 miliardi di euro per la realizzazione di 11 nuovi ospedali, 91 case di comunità e 30 ospedali di comunità, oltre a 43 centrali operative territoriali. Sentiamo. 4,5 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria in Piemonte. Questo il nuovo piano presentato dalla Regione con l'aggiornamento relativo all'incremento delle esorse INAIL che consentono di realizzare con fondi pubblici anche gli ospedali di Cugno e Alessandria. Si parla di 11 nuovi ospedali, 4 rigenerazioni e ampliamenti, 91 case di comunità e 30 ospedali di comunità, oltre a 43 centrali operative territoriali. Oggi è un momento importante, innanzitutto perché aggiorniamo il piano dell'edilizia sanitaria. 4,5 miliardi di risorse pubbliche, abbiamo avuto un incremento di oltre 400 milioni dall'INAIL che ci permettono di mantenere gli impegni per il nostro piano che prevede 11 nuovi ospedali nel nostro Piemonte. Tutte le realtà sono già localizzate, completamente finanziate, ci sono già le gare in corso della progettazione e in alcuni casi già le progettazioni in corso. Accanto a noi, al grattacielo della Regione, peraltro a brevissimo la posa della pinapietra per il Parco della Salute che abbiamo risolto e i cui lavori sono stati affidati. Per il percorso di realizzazione di queste opere la Regione Piemonte ha deciso di avvalersi anche di un gruppo di esperti in materia di prevenzione e contrasto all'illegalità nell'ambito della gestione degli appalti e dei servizi sanitari. Ne fanno parte Filippo Dispre e Antonio Rinaudo. Dispenza, prefetto a riposo e commissario straordinario del governo di Caivano, Franco Frasca invece generale di brigata nella riserva dell'arma dei carabinieri, Mainolfi, generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza, Antonio Rinaudo, ex PM della direzione distrittuale antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica di Torino. Tratta di quattro uomini dello Stato, professionisti dell'anticrimine e dell'antimafia che nel corso della loro carriera hanno dimostrato di combattere concretamente la criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nei gangli dello Stato. Ecco, noi abbiamo di fronte un piano di edilizia grande, unico nel dopoguerra, nella storia della nostra regione. 4,5 miliardi di euro sono una cifra importante che può attirare qui organizzazioni criminali. Nelle ultime ore è scoppiata una polemica accesa dal consigliere regionale del PD, Daniele Valle, riguardo alla presenza di uno dei componenti, Mainolfi, nel gruppo, per il ruolo assunto dal generale in un'azienda privata. L'azienda aveva ricevuto un'interditiva antimafia, poi sospesa dal TAR. La conclusione di Valle si traduce in una domanda. Chi controlla i controllori? Politicamente chiediamo se serva davvero una nuova sovrastruttura e perché. Arrivata prontamente la risposta di Mainolfi, la dichiarazione risulta strumentale ed infondata perché tende a stigmatizzare la mia condotta. Sullo stesso piano la regione, vogliono infangare chi presta la propria opera, ha riferito l'assessore Riboldi, per costituire uno scudo interno a difesa della legalità vergognoso. È stato fermato dalla polizia un uomo di 33 anni che avrebbe coltellato un quarantenni in via Roma a Torino sabato nel tardo pomeriggio al termine di una violenta lite in seguito a un tentato furto. Sentiamo. È stato fermato dagli agenti di polizia l'uomo di origine nordafricane che sabato nel tardo pomeriggio avrebbe accoltellato un uomo di 40 anni dell'est Europa in via Roma in pieno centro a Torino nella zona dei giardini Sambui dopo aver tentato di strappargli una collanina d'oro. L'allarme è scattato quando i passanti hanno visto due uomini litigare furiosamente. Dalle parole si è passati ben presto ai fatti e il 33enne dopo aver tentato il furto ha tirato fuori un coltello. All'origine del gesto dunque una tentata rapina sullo sfondo il via vai dei passanti per lo shopping del sabato sotto i portici di quello che viene definito il salotto buono di Torino. Sul posto dopo l'accaduto si sono precipitate subito le volanti della polizia mentre gli agenti della polizia municipale hanno chiuso al traffico l'ultimo tratto di via Roma. L'uomo accoltellato è stato soccorso dai sanitari del 118. La ferita rimediata alla gamba non è grave e non si trova in pericolo di vita. Attualmente si trova ricoverato in ospedale con una prognosi di 10 giorni. La zona tra i giardini Sambui e Porta Nuova è spesso teatro di scippi, risse e degrado come lamentano alcuni residenti e negozianti della zona che auspicano un controllo maggiore da parte delle forze dell'ordine. Una bimba di 7 mesi è stata salvata grazie a un trapianto parziale di fegato. L'operazione durata 12 ore è stata effettuata all'ospedale Molinette di Torino. Una bimba di 7 mesi è stata salvata all'ospedale Molinette della città della salute di Torino con un trapianto della parte sinistra del fegato di un donatore pediatrico e l'auto trapianto di vena giugolare destra per ricostruire la vena porta. Nata a febbraio di quest'anno con una rara malformazione delle vie biliari, la bimba era stata sottoposta a giugno a un primo intervento chirurgico riparativo nella chirurgia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita. Era rimasto però un quadro di ittero con progressiva compromissione della funzione epatica. Messa in lista d'attesa per il trapianto di fegato a luglio, la piccola a settembre era stata ricoverata, ma il trapianto era diventato urgente dal momento che l'insufficienza epatica non lasciava più speranza di sopravvivenza a breve termine. Nelle scorse settimane dal Veneto era arrivata la disponibilità di un fegato di cui è stata utilizzata la parte più piccola, la sinistra. Il trapianto è durato 12 ore ed è stato eseguito da professor Renato Romagnoli, direttore del Dipartimento Trapianti e del Programma Trapianto Fegato Adulto e Pediatrico della Città della Salute di Torino con la sua equip. L'intervento si è rivelato tecnicamente molto complesso a causa del severo restringimento della vena porta della piccola. È stato quindi necessario sostituire completamente il tronco della vena porta, reperendo la vena giugolare destra della bimba stessa con un vero e proprio autotrapianto. Il decorso postoperatorio è stato regolare, la ripresa funzionale del fegato trapiantato è stata ottimale e le condizioni generali della bimba sono migliorate in modo rapido al punto che a sole tre settimane da trapianto la piccola ha fatto rientro a casa e sta bene. Cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti di Giulia Manfrini, la surfista di 36 anni di Venaria morta nell'oceano indiano mentre faceva surf. Le autorità locali dell'Indonesia stanno lavorando per il rientro della salma in Italia. Tra quelle onde che erano la sua vita Giulia ha trovato la morte. Questo è il momento del dolore di tutti quelli che Giulia Manfrini, surfista di 36 anni originaria di Venaria reale, la conoscevano bene. La donna è morta a causa di un tragico incidente provocato dall'attacco di un marlin mentre si allenava nelle acque dell'oceano indiano in Indonesia, nell'isola di Pulau Masukut, una ferita lunga circa 5 cm che non le ha lasciato scampo. Eppure tra quelle acque Giulia aveva trovato casa perché per lei il mare era diventato un porto sicuro, lei che amava lo sport, praticava surf da anni, aveva anche fondato un'agenzia di viaggi che organizzava gite e vacanze sportive e grazie ai social era diventata un influencer nota alla comunità dei surfisti italiani. Sull'accaduto le autorità locali stanno cercando di fare chiarezza e stanno anche lavorando per il rientro in Italia della Salma. In un primo momento avevano parlato di un pesce spada. Inaspettatamente lei è saltato addosso e l'ha colpita in pieno petto. Aveva precisato il responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentavoai. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'avvocato di Giorgio Manfrini, il padre di Giulia, ha invece raccontato agli amici più stretti di aver saputo che sarebbe stato un marlin, un esemplare con piccole scaglie e denti e la pinna dorsale molto lunga che ha colpito Giulia all'altezza del costato sinistro, causandole una ferita mortale. Non è chiaro se Giulia fosse a cavalcioni della tavola, in piedi o vicino alla barca, di sicuro i primi a soccorrerla sono stati gli amici e i compagni di surf che l'hanno riportata a Riva prima del trasporto nel centro sanitario del luogo, dove però non è stato possibile salvarla. Erano tante le persone che Giulia aveva conosciuto in giro per il mondo e che condividevano la sua passione, quella per la vita, prima di tutto, e per lo sport. Era cresciuta a Venaria, si era lavorato in giurisprudenza a Torino, da piccola aveva provato la neve, prima gli scipo e lo snowboard, con cui aveva anche partecipato all'università di Invernali, ma poi era stato il mare a rapirla totalmente e da qualche tempo aveva deciso di trasferirsi in Portogallo, dove il surf è per molti pane quotidiano. La regenza dell'isone Mentawai, dove si è verificato l'incidente, è una destinazione turistica internazionale di particolare interesse, specie per gli appassionati del surf da onda, è considerata dai turisti il posto migliore per cacciare onde dopo le Hawaii. Tutta la comunità venarese, dice il sindaco Fabio Giulivi, si stringe alla famiglia di Giulia. La sua morte ci ha lasciati sconvolti, ci fa sentire impotenti davanti alla tragedia che l'ha strappata la vita così prematuramente. Un dolore incredulo che arriva fino all'altra parte del mondo, dove gli amici che l'hanno soccorsa la ricordano sui social in queste ore, postando le ultime foto con lei. Un ultimo selfie è scattato tutti insieme su un'imbarcazione. L'ultimo tramonto potrebbe essere migliore di questo. Ciao Giù. Tutta l'Italia, da nord a sud, è stata travolta dall'ondata di maltempo che ha paralizzato anche la Sicilia, colpita da mesi da una pesante siccità. Esondazioni di fiumi e torrenti, in particolare in Emilia Romagna, in allerta arancione da ore. Bologna, la città più colpita. La forte ondata di maltempo ha impegnato molti vigili del fuoco, operatori della protezione civile e forze di polizia dal Piemonte. È un aiuto alle popolazioni che ha raggiunto anche una famiglia con un bimbo di tre mesi, recuperata con l'elicottero di vigili del fuoco. Il maltempo aveva isolato la loro abitazione a Monterenzio. La piccola mano del bimbo, che stringe quella del suo soccorritore, dà il senso del nostro lavoro, scrivono orgogliosi i vigili del fuoco sul loro profilo Twitter. Ma le mani, arrivate in aiuto alle miglie, sono molte, come quelle dei componenti delle quattro squadre del coordinamento regionale del volontariato di protezione civile, con moduli di pompaggio della colonna mobile, impegnate a Val Samoggia, un comune di 33.000 abitanti della città metropolitana di Bologna. Il contingente piemontese, composto da 13 persone, a dirigere il loro lavoro un coordinatore operativo del volontariato e alcuni funzionari regionali che sono sul posto da ieri e si raccordano con il comune. Sempre ieri una squadra di vigili del fuoco del comando di Biella è partita con mezzi e attrezzature per prestare soccorso nel territorio del comune di Cadelbosco di Sotto, provincia di Reggio Emilia, dove un argine del torrente Crostolo non ha resistito alla forza dell'acqua. 515 sono stati in totale gli interventi dei soccorsi dei vigili del fuoco e di questi 190 nella sola provincia di Bologna. 86 le unità giunte da fuori regione e tra queste quelle piemontesi. 3 i posti di comando allestite per la gestione delle numerose richieste di intervento in Valdizzena, Molinella e Reggio Emilia. Aiuto e volontari da tutta Italia per l'Emilia e le sue popolazioni, che nelle ultime ore ha contato anche la perdita di una giovane vita nell'alluvione di Pianoro, dove è morto un ragazzo di 20 anni, Simone Farinelli. 3.000 le persone che sono state evacuate. Adesso ci occupiamo dell'endometriosi, una malattia purtroppo ancora considerata invisibile che però colpisce una donna su 10 e crea molti disagi e problematiche. In Piemonte esiste un centro di riferimento regionale e ne abbiamo parlato con il presidente della Fondazione Medicina a misura di donna. Sentiamo. Ci sono malattie che purtroppo restano quasi invisibili, meno conosciute di altre, non se ne parla o esiste ancora lo stigma nel parlarne. Una di queste è una disabilità invisibile della donna e l'endometriosi, una patologia che comporta la crescita di un tessuto simile al rivestimento interno dell'utero anche al di fuori di quest'ultimo. È una malattia invisibile ma che può rappresentare per le donne un disagio, una difficoltà quotidiana, personale, fisica e psicologica molto significativa ed è soprattutto una malattia cronica e invalidante. Il 28 marzo ricorre la giornata mondiale delle endometriosi, istituita nel 2014 per porre l'attenzione su questa malattia. Nel mondo sono circa 190 milioni le donne e le adolescenti colpite da endometriosi durante l'età riproduttiva, anche se alcune possono soffrirne, oltre la menopausa. In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne fertili. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne con difficoltà a concepire. Le diagnosi conclamate sono almeno 3 milioni, il picco si verifica tra i 25 e 35 anni. Può causare dolore pelvico, comportare infertilità, disturbi del sonno, difficoltà nelle relazioni interpersonali e può interferire nelle attività lavorative. In Piemonte esiste un centro di riferimento regionale per le endometriosi dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Il centro, dal 2018, ha attivato un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale aziendale dedicato alla patologia, successivamente elaborato ed integrato nell'attuale percorso di salute e diagnostico-terapeutico assistenziale della regione Piemonte. L'endometriosi ha un'influenza importante proprio sulla qualità di vita, sui rapporti interpersonali, rapporti col partner, può influenzare anche la fertilità, per cui è importantissimo fare tutto quello che è possibile per poterla diagnosticare e in qualche modo curare e prevenire nei limiti del possibile per quanto riguarda la progressione della malattia. Quali possono essere i sintomi? Il sintomo di solito è il dolore, dolore al basso ventre, quindi nella pelvi e di solito, soprattutto all'inizio, avviene in corrispondenza del flusso mestruale e quindi se un dolore è troppo spiccato deve essere un campanello d'allarme, non deve essere sottovalutato. Talvolta invece l'endometriosi viene scoperta casualmente perché si ha difficoltà a intraprendere una gravidanza, a rimanere fertile e quindi è una, diciamo, una diagnosi casuale. Questi però sono, diciamo, delle eccezioni. Spesso è il dolore che rappresenta il sintomo principale. Voltiamo completamente pagina. Dalla 10 novembre, per un mese, l'acqua è protagonista a Torino. Il CAP 10100 presenta l'1% l'essenza dell'acqua, un programma di iniziative per sensibilizzare verso un uso responsabile delle risorse idriche e alla loro importanza per la vita del pianeta. Il 71% della superficie terrestre è ricoperto d'acqua. Di questa, soltanto l'1% è accessibile per uso umano. Da qui nasce l'iniziativa promossa e ospitata da CAP 10100, l'1% l'essenza dell'acqua. È un evento immersivo, interattivo e multisensoriale a Torino. L'obiettivo, dal 10 novembre, per un mese, è coinvolgere il pubblico attorno al tema dell'acqua e alla sua centralità nelle sfide future. Questo è un progetto che indaga, inizia a indagare dalla vita del fiume, attraverso alcune fotografie degli archivi storici, ma indaga anche l'alluvione con la mostra patrocinata dalla città metropolitana e da Triciclo, una delle associazioni che collabora con noi sull'alluvione del 2016. E quindi poi continuiamo questo percorso incontrando delle start-up, incontrando chi ci sostiene come SMAT, che ci porterà la sua testimonianza, incontrando dei racconti di Earth Film Festival, Associazione Tecne, che ha fatto delle videointerviste tra la Valle d'Aosta e la Liguria rispetto a proprio come è cambiato il rapporto con l'acqua. Ospiterete un'installazione, cosa prometterà di fare? Si entrerà attraverso le nostre due scalinate e si vedrà una esposizione fotografica, che è la cosa più semplice che c'è. All'interno del foyer ci saranno dei giochi su tablet che potranno misurare la vostra water footprint o anche la carbon footprint e ospiteremo qui delle start-up varie che stanno sperimentando vari modi per risparmiare, utilizzare e ottimizzare le risorse idriche. Questa sera con Non vedo l'ora vi portiamo a Cantoira, vi racconteremo l'antica battaglia del Regino e ne scopriamo di più in questo servizio. Vi ricordiamo l'appuntamento sempre alle 20.30, sempre su Canale 15. La tradizione agricola di Cantoira che raccontiamo anche con le sue tradizioni. Allora, vice segretario dell'associazione? Iamis le Reine delle Waldlands. È l'associazione che praticamente cura questa battaglia delle rene. Le rene sarebbero delle mucche che vengono chiamate così. Sono animali docili che però hanno un po' la tendenza quando si trovano due di loro, una deve primeggiare, c'è poco da fare. Specialmente qua diciamo che c'è ancora l'usanza di andare sugli alpeggi e portarli al pascolo. Una deve primeggiare, lei che comanda il gruppo. Sono manifestazioni che ci sono su tutto l'arco alpino e c'è per esempio a Osta dove si è arrivati alla 67esima edizione in Svizzera che si è passato i cento anni e poi c'è anche a Chamonix in Francia. E noi c'è qui a Cantoira e poi c'è ancora in Piemonte a Tavagnasco che è la prima domenica di novembre. Per ora è tutto e dopo la sigla c'è lo sport. Dalla Lazio allo Stoccarda in casa Juve dopo la vittoria sui bianco celesti. Domani la squadra di Tiago Motta ritorna in campo per la sfida di Champions League contro i tedeschi. Sabato sera da dimenticare per Douglas Lewis svaliggiata la sua casa in collina. Fino alla fine non è solo un motto. Ben fatto ragazzi. Così sui social la Juventus esalta la vittoria di sabato sera contro la Lazio per 1-0 in uno degli anticipi dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Tre punti che consentono di staccare i bianco celesti che prima della gara occupavano lo stesso posto in classifica dei padroni di casa. A metà del primo tempo l'espulsione di Romagnoli e Lazio in dieci. A favore dei bianconeri decisivo l'autogol di Gila all'ottantacinquesimo. La Juventus ha dunque vinto per un errore laziale dopo 70 minuti in superiorità numerica. E da qui cominciano le considerazioni. Una vittoria sicuramente importante anche sottenuta negli ultimi minuti e con fatica per arrivare a rete. Tra le note positive il soddisfacente esordio di Azic. Tre punti preziosi centrati tra le mura amiche dopo tre pareggi consecutive allo stadium in campionato. Serata invece da dimenticare per Douglas Lewis e la sua compagna l'attaccante delle women Alicia Lehmann. Mentre era in corso la partita è stata infatti svaliggiata la loro villa in strada Valsalice nella prima collina torinese. Il furto è stato scoperto dal calciatore a rientro da Juve Lazio quando ha trovato la casa completamente a suo quadro. Sul posto intorno all'una è intervenuta la polizia con la scientifica per effettuare i rilievi. A quanto si apprende sarebbero stati rubati oltre una decina di orologi del calciatore e alcuni gioielli della compagna. Anche lei è impegnata nel ritiro della Juventus Women. Il valore degli oggetti rubati insieme a denaro in contante si aggira intorno al mezzo milione di euro. Fortunatamente nessuno dei due si trovava all'interno dell'abitazione. Si tratta dell'ultimo di una serie di furti che hanno coinvolto alcuni giocatori residenti nella zona collinare. Da Moise Keen a Caio Horge e Angel Di Maria. L'argentino si trovava invece in casa ed è riuscito a dare l'allarme insieme all'allora vicino Dusan Vlaovic. Tornando al calci giocato oggi è già giornata di vigilia in casa Juve. Domani infatti i bianconeri scenderanno nuovamente in campo all'Allianz Stadium per affrontare lo Stoccarda in Champions League. Arbitra il norvegese Eskas. Fischio d'inizio alle ore 21. Terza sconfitta consecutiva per il Toro. Se ne parlerà stasera a Orgoglio Granata dalle 21 e si parlerà anche della vittoria della primavera Granata nel derby. Ancora una sconfitta. La terza consecutiva. Quarta se si considera anche l'eliminazione della Coppa Italia. Il Toro dalle stelle alle stalle in un mese con la maledizione della sconfitta. Ancora una volta per 3-2 con 9 gol subiti in tre partite. Mister Paolo Vanoli a fine gara ha spiegato senza uno come Zapata. Le cose cambiano. Sanabriec e Adams hanno fatto molto bene. Vlasic pure. Ma possiamo migliorare. Ma questi ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Ha detto. Devono magari capire che dettagli fanno la differenza. Nel primo tempo Sanabria risponde subito a Viola a rivaltarla con un gran tiro e il neo capitano Linetti in vantaggio per 2-1. I Granata invece di addormentare la partita si addormentano e pagano a caro prezzo i quattro minuti in cui i sardi trovano il pareggio con Palomino e la ribaltano sul 3-2 con l'autorete di Coco. Negli ultimi minuti l'occasione più bella per pareggiare per i Granata è quella di C. Adams. Ma scuffette. Vola e salva il risultato. Problema del Toro. Evidente. Si chiama difesa o fase difensiva. Ci sono stati degli errori. Ha detto e proseguito Vanoli. Soprattutto sulle palle inattive. Dobbiamo essere forse più determinati e furbi su quei palloni. Dobbiamo lavorare. Su questo aspetto ci manca qualcosa che dobbiamo ancora trovare. Ma ripeto. Ha concluso Vanoli. La prestazione mi soddisfa. Ci dobbiamo credere. Dobbiamo superare questi momenti. Il Toro si risveglia. Nono in classifica. Venerdì ci sarà il Como in casa. Poi il trittico di fuoco Roma-Fiorentina e il derby contro la Juventus. Questa sera intanto torna Orgoglio Granata in diretta dalle ore 21 per parlare della sconfitta del Toro a Cagliari. Della vittoria nel derby della primavera con tanti ospiti e grandi ex in studio e in collegamento. E tutto. Ora la linea va al meteo. Nella seconda parte del telegiornale avremo ospiti in studio Gianni Mannori. Fiamo Cigelle Mirafiori per parlare dello shot però generale automotive. Restate con noi.